a Sanremo Talent con Camilla Merler del Trentino Camilla sei arrivata da poco, sei giunta qui da poco mi dici qual è stata la tua impressione, il tuo impatto con il concorso ma la mia impressione direi che è stata molto buona preparate le persone che lo fanno insomma mi sono sentita un po' spaesata, io non faccio concorsi così è uno dei miei primi insomma quindi sicuramente la giusta emozione, la giusta adrenalina avrai come presidente di giuria il maestro Vince Tempera avrai Maria Teresa Ruta, avrai Walter Sacripanti una gente che lavora da anni nella musica e nel mondo dello spettacolo sarà un valore aggiunto o per te procurerà un po' di timore? beh un po' tutte e due perché comunque vedermi davanti delle persone insomma importanti nell'ambito musicale insomma l'emozione c'è sempre quale sarà il tuo brano? Combattante di Ferra la Mannoia è la tua artista preferita? direi di no qual è la tua artista preferita allora a questo punto? eh ma io sto sul genere rap ah genere rap però qui canti qualcosa di più sicuramente tranquillo in bocca al lupo Camilla grazie mille forse è vero mi sono un po' addolcita la vita mi ha smossato gli angoli mi ha tolto qualche asperita il tempo ha cucito qualche ferita e forse ho tolto anche i miei muscoli un po' di elasticità ma non sottovalutare la mia voglia di lottare perché è rimasta uguale non sottovalutare di me niente sono comunque sempre una combattente è una regola che vale in tutto l'universo chi non lotta per qualcosa ci ha comunque perso e anche se la paura fa tremare non ho mai smesso di lottare per tutto quello che è giusto per ogni cosa che ho desiderato per chi mi ha chiesto aiuto per chi mi ha veramente amato e anche se qualche volta ho sbagliato qualcuno non mi ha ringraziato mai so che in fondo ritorno a tutto quel che hai perché è una regola che vale in tutto l'universo chi non lotta per qualcosa ci ha comunque perso e anche se la paura fa tremare non ho mai smesso di lottare perché è una regola che cambia in tutto l'universo perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso e in questa lacrima infinita c'è tutto il senso della mia vita è una regola che cambia in tutto l'universo perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso e in questa lacrima infinita c'è tutto il senso della mia vita